E no cara, se deciso liebica non ce l'ha e non fa lo stesso. Cosa ha di diverso? Primo, deciso liebica, meno sale e meno grassi. E meno grassi metti nei tuoi piatti meglio è, non ti pare? Guarda qui, com'è bello magro. Secondo, ha la più alta quantità di estratti. E sono gli estratti che danno il gusto, mica i grassi. Per questo deciso liebica ha un gusto più... come si può dire, più... corposo. Deciso liebica, meno grassi, meno sale, più estratti.